Guarda che andiamo, vai, dove cazzo andiamo? Andiamo a Tocciolaglia Bello Tocciolaglia Sempre nella parte dei capannoni? Si All'inizio? Si Ma questo dov'è che va? Minchia mi sa che Oh oh Mi sa che stanno venendo anche questi Sono bassissimi quelli, ma che cazzo? Andiamo alla fine, andiamo alla fine, andiamo alla fine Eh ormai Ebbè fai a posto però Ma erano bassi comunque loro eh Se arriviamo il primo Io dovrei arrivare il primo e prendere i telearmi, so che erano in due I Ehm Cazzo stanno spalando Pagmuro via A qui Arrivo eh Dove sei sicuro? sono a me sopra sopra il tetto stanno ma tu che cazzo sei? ma tu sei sopra? sono a solito sopra ma c'è? mi sento ma non capisco eccoli forse qua eccoli qua così tu mi stai sparando con le eccolo ecco uno l'ho battuto l'altro qua dietro l'albero dietro l'albero ma non ho avuto nel tempo neanche di sparare questo qua c'è ciao vabbè non so più cos'è? la pizza? aspetta cos'è cos'è? la pizza è più di tu? ecco ecco sta arrivando spazio attenzione ma dici che sono fermati qua? forse no eh ah oh oh da vero si penso che sto sopra di sicuro ecco spaccato il tetto attenzione sta scendendo sta scendendo e ora? aspettiamo che viene tu ma dici uno solo? ma dici uno solo? con quel cosa che fa casino non sento un cazzo pure pure ecco l'uomo perché la porca beh vabbè ma vaffanculo ma colpite aspetta ci ti faccio il giro nooo no un colpo cazzo dov'è? qui dietro qui dietro dove cazzo è? vabbè forse è andato via eh oh entra qua entra qua entra qua scappato era un coglione era eh non pensavo che erano due me lo vuoi cura eh? eh stavo facevo un po' di pizza pensavo di fargliela quella il giro ma era troppo lunga cazzo ecco ritorna vuoi te cosa vuoi questo? ho detto il culo devo andare via ehm ehm senti usiamo usiamo il coso qua oh ah questo qua per volare eh ma ormai dove cazzo? si la possiamo pigliare oh c'è il pompa viola piglialo tu il pompa viola il tuo preferito c'è ok ma era colpita? no cazzo è colpita io vado eh non mi sa non mi sa della coda devi sali ahahah vai vada ok peccato quello lì, se lo spariamo in due forse potevamo ucciderlo cazzo ah se è qui il tesoro, forse ce la facciamo a fare dov'è? eh qui aspetta ma dove cazzo sei? eh non è proprio qua vero siamo arrivati ah io sono un po' più indietro io eh bello bello eh vabbè sembra un po' di merda però eh vediamo? c'è il troppo Giuse andamolo a prendere no certo c'è qualcuno oh merda ah lo sono porca troia eh Giuse mi devo curare eh non voglio curare eh vabbè l'ho copito bene eh non riesco a colpirlo eh no no sta scappando Giuse porca puttana come cazzo? ah è scappato il figlio di puttana niente è riuscito a scappare ma ti rendi conto cazzo? non si sta curando è qua da qualche parte ah è quello la eh chi è? ma è un altro quello no dai vabbè piglia sto cazzo di drop o cazzo non c'è granato lo piglio io eh? piglio io eh? no mi piglio dove sei? ma che l'ha sparato? io lo uso queste non me ne frega un cazzo dai quello lì si è salvato ma ti rendi contato verso di qua però ho visto tipo piglia tutta ah c'è un po' di moni un po' di cose gli uvanti materiali c'è oh quello lì ha detto pigliare la scheda Giuse cazzo non dobbiamo fargliela pigliare però no ma io aspetto qua un attimo eh aspetta non me ne frega un cazzo se perché quello la lascia lì? ecco quella sono altri due eccola eccola ho visto eh eccola lì guarda 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 come ritorna a pigliare la scheda eeeh no c'è spade ma è un pezzo di merda figlio di... figlio di troia oh porca puttana non ho riuscito a pigliarla cazzo uuuuuh spare gli mentre ci stava andando cazzo eh ma ormai... ti deve dare cosa eh ormai non riesce a salvarlo quel bastardo perchè andrà tutto dall'altra parte andrà di sicuro oppure possiamo andare lì eh sarà andato lì eh forse è quello infatti dove? tipo la... tipo la... se andrà a rianimare forse... che c'è da c'è un coso per rianimare però non so... non so se è lui eh no Giuseppe... attenta che ti hanno lanciato forse cosa per vederci ma dici che quello la? ah no ma c'è uno qua eh Giuseppe qua 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 qua.. ti metti ancora ma... cazzo fanno a morire oh no 57 bianchissimo cazzo ma dove stanno? Eh si sta L'ho ucciso, l'ho ucciso a questo Vaffanculo Arriva L'ho distrutto No altri Porca merda Ecco scappato porca Scappato giuse cazzo Ci combina che andiamo anche noi Perché ci sono quegli altri che ci stanno sparando Via via Ma hai colpito da un cegrenate per caso Aspetta un attimo mettiamocci qua un attimo No Non so che stanno qua Vada Vada Bastardio Vedi qua Siamo qui eh Ci hanno visto entrare dentro il coso Vedi Vedi A Vedi 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 Eccolo Sì vabbè non lo piglia Ma come è possibile non lo piglia Era lì Dai come cazzo ha fatto a non prenderlo Però era lì cazzo Ora io non tieni Allora ce l'avevi allora No no se ci prendo la cassetta per te Attento che a finestre ti possono sparare Che facciamo Aspettiamo siamo ancora dentro Io sono convinto che E' qua da qualche parte sto figlio di puttana E' qua a fianco e penso Lo stanno rianimando Dopo chiudi cazzo Eccoli giù si vedono da qua Ehm 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 Se l'iamo su se l'iamo su a fa un culo Ehm Ehm Aaaaaa Ha fatto accadere Ehm Vabbè Ma quello che era c'è qualcuno sotto come si è ma quindi qua non c'è nessuno qua dentro oh questo è bianco eccoli cazzo stanno ancora qui giusto no stanno arrivando un'altra volta no mi sa che ci riesce di animare no giusto siamo fottuti quanta gente c'è aspetta fai li ammazzare aspetta vieni di qua vieni di qua devo andare avanti però eh e vabbè quanti spade a me ci sono c'è quello spara a me con gli spari che gli vogliono in faccia brava cosa ti impari cazzo ma scuola ma se li pigliamo da ah ma c'è ancora gente ma c'è ancora gente dentro sopra la casa o c'è ancora quel coglione qua vabbè non c'è parole non c'è lancia granate volendo eh però eccolo ah l'ho abbrato l'ho abbrato battuto riesci a ucciderlo anche quello io l'ho ucciso dai dovrebbe prenderlo eh niente non lo piglio però quello è morto almeno è andato via mi sa quello che era di là eccolo eh lo so è quello che ho ucciso infatti ma quelli stanno ancora lì quello là sta ancora lì il compito non c'è canale vedete lì io tutta no che cazzo fai vediamo spider me lo piglio eh via tutta giù se cazzo te ne frega eccolo 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 dov'è ah l'ho colpito l'ho ucciso è morto cazzo siamo due contro uno due contro uno siamo ah si è là sai che è là perché ho visto che costruiva lì eh ecco no 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 è qua eccolo là è morto l'ho quasi ucciso già eh è morto con la safe coglione è andato tutto indietro che testo eh l'ho massacrato era rimasto con un pochissima vita infatti troppo forti siamo cazzo vabbè quello è la scassessa quello è rimasto alla fine però eh questo qua qua come la merda non hai visto eh è morto solo con coglione questo secondo me è una vera pace eh eh no infatti minchia che casino è ragazzo alla fine hai visto porca puttana che ma c'è questa malattia ho visto che quella lancia e granate è stato fondamentale gazzo sì eh ma l'ancia e granate è devastante sì ma prima non era così eh l'hanno modificato con questa stagione qua l'ancia e granate prima non so se tu ti ricordi cioè tu ma sparavi un colpo e ci metteva tre ore per esplode adesso esplode proprio appena tocca esplode subito eh sì eh meglio così perché più forte perché esplode subito il colpo infatti prima come l'ancia e granate una volta faceva cagare per questo gazzo un po' forte che giuse però ecco faccio l'ultimo ragione questo l'ho registrato pure eh questa partita è un po' forte